I grandi eventi purtroppo in Italia sono diventati il luogo in cui vince la corruzione, un luogo in cui vince la speculazione. Da tempo noi verdi diciamo con grande chiarezza che l'Expo di Milano non doveva essere quello che è oggi, vale a dire una grande cementificazione dei terreni agricoli. Ecco perché noi chiediamo che si ritorni al principio originario. Il tema era nutrire il mondo. Ebbene, allora si ridimensioni l'Expo e si faccia in maniera molto molto sobio, oserei dire anche quasi in maniera francescana perché tutti questi soldi vanno nelle tasche di prebende politiche e invece non tornano al territorio per promuovere il Made in Italy.